Prosegue la carrellata di Lucca in diretta con i nuovi eletti nel Consiglio Comunale di Lucca. Nell'ultima tornata elettorale siamo con l'Avvocato Mara Nicodemo, eletta nella fila di Fratelli d'Italia. Una elezione con una truppa nutrita per Fratelli d'Italia, ma iniziamo dalla sua esperienza politica e professionale. Sì, buongiorno a tutti. Io milito in Fratelli d'Italia dal 2014. Ho ricoperto alcuni ruoli all'interno del partito. Sono stato il presidente del circolo di Massarosa, dove abitavo precedentemente, prima di trasferirmi nella città di Lucca. E ho rivestito alcune cariche come responsabile per le pari opportunità e attualmente sono la responsabile del dipartimento Tutela Vittime. Ecco, mi immagino che siano quindi questi i temi che come neoconsigliera comunale vorrà apportare come contributo alla nuova amministrazione comunale di centro-destra. Esattamente. Il mio cavallo di battaglia sarà quello di portare all'attenzione del Consiglio Comunale le problematiche relative alle donne lavoratrici. Nella categoria nella quale io poi rientro pienamente. Io sono madre, sono avvocato e vedo tutti i giorni, mi combatto tutti i giorni con le difficoltà di conciliare appunto la carriera con l'esigenza appunto di una bambina molto piccola. Tutto questo all'interno di un'amministrazione comunale di Lucca che ritorna al centro-destra dopo dieci anni di amministrazione tambellino. Una grande soddisfazione per voi? Sì, decisamente. È veramente una grande soddisfazione. È stata una campagna elettorale molto bella, l'abbiamo svolta nelle piazze tra la gente come piace a noi di Fratelli d'Italia ed è stata un'emozione fortissima quella di riuscire appunto a vincere queste elezioni e ad essere poi anche il primo partito della coalizione di centro-destra. Quindi è un grande risultato per Fratelli d'Italia. Cosa si aspetta dal sindaco Mario Pardini nel primo suo periodo di governo della Città? Allora, mi aspetto che faccia notare subito un cambio di passo. Lucca in questi anni è stata in una situazione di pieno immobilismo, quindi ci aspettiamo subito di iniziare a lavorare in modo saldo per iniziare a porre in essere i primi punti dei nostri programmi.